I saldi, come le vacanze, anche quest'anno non saranno per tutti. Il 38% delle famiglie italiane, meno 1% rispetto allo scorso anno, è propenso ad acquistare a prezzi scontati, con una spesa media di 142 euro a famiglia, meno 5% rispetto al 2023. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale FederConsumatori, infatti, coloro che si dedicheranno allo shopping lo faranno con prudenza e oculatezza. Come stanno andando gli acquisti nel primo giorno di saldi estivi in Abruzzo? Insieme a Diego Martelli andiamo a verificare la situazione. Seguiteci. Se non siamo indiscreti, cosa acquistate? Ho preso delle magliette, piccole magliette cotte. Ho preso un pantalone e due magliette, però è buono visto i prezzi saldi, almeno qualcosa di bello, che mi è piaciuto, almeno. Tutta volta i saldi non è che si acquista tanto facile, la roba non è che è tanto speciale. Allora, però oggi, abbastanza. Una semplice passeggiata. Però dureranno circa due mesi le vendite a prezzi scontati. Hai intenzione di dedicarti allo shopping oppure acquisti solo online? Ma preferisco acquistare online perché mi arrivo a casa e le vendite sono migliori, secondo me. I prezzi migliori? Sì, secondo me sì. La qualità dei prodotti? Sono migliori, secondo me. Come sono i prezzi? Buoni, sì. Oggi i saldi ci danno una grande mano. Acquistate nei negozi di vicinato, ma anche online? Sì, maggiormente sì, diciamo. E quale acquisto preferite? Io profumeria, cosmetici. Credo con molte buste, sue o di sua moglie? Di mia moglie. Torniamo via perché già abbiamo speso tanto. Però ha risparmiato rispetto ai prezzi che c'erano in precedenza? Qualcosina sicuramente. Abbiamo comprato dei vestitini. Continuerete a fare shopping oggi e anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane? Avete due mesi a disposizione. Con moderazione. Online, prima di tutto. Perché? Perché è molto più conveniente online tutto l'acquisto, anche la carta igienica. Il più bello di periodo in Italia è questo tempo di saldi. Io sempre aspetto questo periodo, perché è più bella cosa che è possibile. Metà prezzo, qualità buona. Tengo negozi questi che veramente mi piacciono. Lo so che molto conviene. Grazie a tutti.